Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo semplificare la seguente espressione seno di 2x più seno di x meno coseno di x al quadrato. Cominciamo a ricordare le formule di duplicazione del seno. Seno di 2 alfa è uguale a 2 seno di alfa per coseno di alfa. Quindi nel nostro caso abbiamo seno di 2x che è uguale a 2 seno di x per coseno di x più abbiamo seno di x meno coseno di x al quadrato. Svolgiamo quindi questo quadrato di binomio. Il risultato è seno al quadrato di x più coseno al quadrato di x meno il doppio prodotto 2 seno di x per coseno di x. Osserviamo che 2 seno di x coseno di x meno 2 seno di x coseno di x è uguale a 0. Quindi il risultato della nostra espressione è seno al quadrato di x più coseno al quadrato di x che, ricordando la relazione fondamentale della goniometria, è uguale ad 1. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita. Grazie. Grazie.